ciao a tutti amici di youtube e benvenuti in questo nuovo video in questo video voglio presentarvi la mia nuova videocamera che vediamo inquadrata qui cominciamo subito allora è una videocamera full hd anche se qui c'è scritto solo hd ma vi assicuro che è full hd 1080p come vediamo e qui inquadrato abbiamo in primo piano il lo splendido obiettivo grand'angolo a 140 gradi e di lato possiamo trovare direttamente il tasto di accensione spegnimento e selezione delle modalità video o foto allora ci spostiamo di lato e possiamo trovare questi due pulsanti non sono per lo zoom perché purtroppo questa videocamera è sprovvista di zoom ma dopo vi spiegherò i dettagli e quindi questi due tasti servono solo per scorrere le varie opzioni che dopo vi elencherò insomma allora qui di lato troviamo non so se si vede vediamo un po eccolo lì vedete quella specie di quei furini in quei forellini è alloggiato l'altoparlante in quanto questa videocamera incredibile dirlo è provvista anche di altoparlante allora ci spostiamo sul retro e possiamo trovare lo schermino da due pollici che nonostante le sue dimensioni è di alta qualità ve lo posso assicurare ha delle buone aspettative diciamo adesso ci spostiamo di sopra sul lato superiore e qui possiamo trovare il led di funzionamento che si segnala che la videocamera funziona oltre a la registrazione e questo pulsante che c'è scritto ok in pratica serve per far partire il video o selezionare le varie opzioni bene ora ci spostiamo a sinistra e qui possiamo trovare altre due cose ovvero l'alloggiamento per la scheda sd la memoria che infatti è sprovvista di memoria interna a questa videocamera e mi dispiace dirlo tuttavia la memoria è espandibile fino a 32 giga che è abbastanza e della sicuro per questa videocamera è parecchio 32 giga sono circa due ore e mezza di video e va benissimo oltretutto in full hd quindi allora qui possiamo trovare subito accanto alla scheda sd troviamo la presa per il cavo micro usb fornito in dotazione che è il classico cavo universale per i telefoni e gli smartphone allora ci spostiamo nel lato inferiore e qui troviamo aspettate che ve lo faccio vedere questo piccolo sportellino che nasconde la batteria batteria da 1050 mAh che garantisce una durata massima della videocamera di un'ora e mezzo più o meno e va benissimo in effetti perché se capite guardate le dimensioni in effetti aspettate che ve lo faccio vedere meglio ecco queste sono le dimensioni della videocamera e direi che un'ora e mezzo di registrazione vada benissimo bene adesso un qualche altro piccolo dettaglio bene mi sono procurato la scatola originale e qui vi sono scritte tutte le funzioni che vi volevo elencare prima allora in primis troviamo la funzione appunto 1080p full hd e accanto troviamo questa scritta in inglese che ci segnala che la videocamera ha la capacità di funzionare anche sott'acqua tramite questa che è la sua custodia originale in cui va alloggiata la videocamera semplicemente aprendola ora non ci riesco perché è veramente durissima ad aprire con la sua mano e semplicemente la videocamera va inserita in questa posizione all'interno la profondità appunto non ve l'ho detto ma tra non molto la vedremo allora qui vediamo che vi è la possibilità di registrare con due tipi insomma di di qualità del video full hd e hd come vedete abbiamo la scritta questa qui che ci segnala che appunto è grande angolo questa videocamera 140 gradi e dopo lo vedrete qui troviamo la profondità che appunto è sopra ai 30 metri ovvero possiamo andare tranquillamente sopra i 30 metri chiaramente senza esagerare tanto io per quello che non sono un sub quindi non arriverò mai a 30 metri di profondità poi per quello che mi serve è impossibile arrivare a 30 metri abbiamo subito sotto troviamo l'indicazione del dello schermino laterale 1.5 2.0 due pollici ricordiamoci di tipo lcd abbiamo al di sotto la funzione multi language che ci permette di selezionare le varie lingue e come vi ho detto prima questa videocamera funziona con micro sd di tipo scusate di tipo hc la micro sd che troviamo ovunque bene allora ci spostiamo al di sotto abbiamo la tutte le varie funzioni che avevo indicato prima il cavo micro sd le dimensioni bene adesso vi mostro come funziona bene mi sono posizionato esattamente davanti alla videocamera e adesso la vado ad accendere con il tasto che avete visto prima ecco cosa strana la marca della videocamera si trova soltanto sullo schermino e non sulla scatola veramente strano cercato ovunque non c'è bene allora lo schermino come vedete è di alta qualità come detto prima che anche se di due sole di soli due pollici è di alta qualità in pratica veramente molto ben leggibile e cose varie insomma allora un po di dettagli sullo schermino allora in alto nel mezzo possiamo trovare la qualità con cui stiamo per fare il video al lato troviamo la durata che possiamo effettuare a sinistra indicazione che siamo su modalità video e in basso a sinistra lo stato di salute della batteria bene direi di iniziare subito ok vediamo che i numeri aumentano e ciò significa che la registrazione è cominciata da notare che ho inserito la funzione data e ora infatti si vede al di sotto abbiamo la data e accanto anche l'ora perché beh non lo so mi piace così allora direi di effettuare il classico test che abbiamo già effettuato con la samsung ovvero muoviamo la videocamera per controllare se fa dei video a scatti oppure se fa dei video di buona qualità ricordiamoci che siamo in full hd 1080p bene adesso facciamo dei movimenti bruschi proprio come abbiamo effettuato con la samsung se vi ricordate ok allora direi che con questo il test si conclude ok a questo punto possiamo spegnere perché non ci serve più allora in sostanza è una videocamera molto solida un design veramente appunto da un aspetto solido e anche molto maneggevole come avete potuto vedere questa videocamera l'ho scelta proprio per fare i video sott'acqua in quanto per fare video normali per il fatto che è grand'angolo non non è molto adeguata se mai se dovrò fare dei vlog la userò per quello ma per ora non ne faccio quindi lasciamo stare allora che altro dire direi che ho detto tutto quindi vi metto il video che abbiamo appena effettuato direttamente subito dopo questo video e per il momento vi ringrazio per la visione e ci sentiamo ci sentiamo con il prossimo video a voi il video ok vediamo che i numeri aumentano e ciò significa che la registrazione è cominciata da notare che ho inserito la funzione data e ora infatti si vede al di sotto abbiamo la data e accanto anche l'ora perché? beh non lo so mi piace così allora direi di effettuare il classico test che abbiamo già effettuato con la samsung ovvero muoviamo la videocamera per controllare se fa dei video a scatti oppure se fa dei video di buona qualità ricordiamoci che siamo in full hd 1080p bene adesso facciamo dei movimenti bruschi proprio come abbiamo effettuato con la samsung se vi ricordate ok allora direi che con questo il testo si conclude grazie a tutti 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 grazie a tutti